E adesso ci immergiamo nelle bellissime e grandi atmosfere della danza, atmosfere magiche perché dovete sapere che al Teatro San Carlo sarà possibile vivere e respirare sogno di una notte di mezza estate dal 18 al 23 ottobre con la coreografia di Paul Chalmer. Per naturalmente a presentarci l'opera e il balletto c'è il grandissimo della danza, un grandissimo rappresentante. Sono contenta di avere qui con noi il direttore del corpo di ballo dello storico teatro partenopeo Giuseppe Picone. Maestro buongiorno. Buongiorno a voi e grazie sempre per l'ospitalità. Siamo contenti quando si parla di danza, poi maestro, lei lo sa, io sono più che contenta. Sono di parte, sono contenta di essere di parte in questo caso. Dal 18 al 23 ottobre al Teatro San Carlo, in scena sogno di una notte di mezza estate, dall'omonima commedia di William Shakespeare, due atti in sei scene dove in realtà si racconta l'amore, l'amore anche impossibile. Una grande sfida anche questa perché non è la prima volta che lei si cimenta in opere, possiamo dire, inedite per quanto riguarda il Teatro San Carlo. Sì, infatti questo è un titolo che chiude la stagione di Balletto 2018-19 del Teatro San Carlo e come l'anno scorso con La Dama delle Camelie, che è stato un altro grandissimo successo, quest'anno c'è Sogno della notte di mezza estate. Dei titoli che qui a Napoli non sono mai stati fatti, ovviamente nel mondo del balletto. Le coreografie sono di Paul Schalmer, ci sono due stelle internazionali, una è italiano, si chiama Vito Mazzeo, all'Eth National di Amsterdam e lei è Maya Macatelli. Che già aveva avuto modo di conoscere. Che già conoscete perché ha debuttato nel Lago dei Cigni e ha avuto veramente un grandissimo successo. Poi abbiamo le nostre ormai star come Salvatore Manzo che sarà Puc. Puc, il protagonista, questo folletto che ci cimenterà in questi virtuosismi. Avete visto alcune foto alle vostre spalle e tanti altri solisti della compagnia. Maestro, diciamo anche che si porta in scena una grande responsabilità. Se pensiamo che lo spettacolo nasce con Beppe Merighetti e Carla Fracci per il teatro dell'Opera di Roma. Quindi insomma adesso si ripropone a Napoli. Come lei ha detto per la prima volta attraverso il balletto un'opera di Shakespeare. C'è anche un po' di tensione, no? Sì, la tensione c'è perché è un'opera che è stata fatta alle terme di Caracalla dieci anni fa. Però un po' come Dama delle Camele che era già stato messo in scena in Croazia, io ho cercato di spingere verso una semi-creazione. Pertanto il... Che cosa vuol dire semi-creazione? Cambiare i passi. Esatto. E magari rifare qualcosa che magari ecco dieci anni fa non era venuta abbastanza bene. Quindi ripensata, un po' ripensata. Anche le scene sono completamente del Teatro San Carlo, completamente nuove, firmate da Pasqualino Marino che è il nostro direttore di allestimento scenico. Pertanto ieri ho visto quello che il pubblico vedrà e credetemi è qualcosa di estremamente elegante. E i costumi sono quelli originali di dieci anni fa che poi in effetti non è stato più ripreso questo baletto. Perciò sono intatti, sono meravigliosi. Meravigliosi, io immagino quanta bellezza ci sia. E che poi tra poco a San Carlo, il 18, la prima, noi vi parliamo di coreografia. Abbiamo menzionato Menegatti, Carla Fracci, però in realtà dobbiamo ricordare che la prima coreografia nel 1876 fu del leggendario Petipa, no? Vengono rivalutati, vengono, ecco, un po' cambiati stravolti i passi, però facciamo anche una disamina sul livello tecnico di grandissimi artisti. Lei prima ha menzionato l'Etoile Maya Macatelli e tanti altri ancora, Salvatore Manzo. Come cambiate anche un po' la figura del ballerino, della danza nel corso del tempo? Perché io penso che abbia incontrato poi più difficoltà nella preparazione proprio dei passi. Ma allora, io sinceramente penso che oggi il ballerino ha molte più facilità perché ha tutto a disposizione. 40 anni fa non era così, nel senso una sala ballo, quella del Teatro San Carlo era piccola, la sala clerici è una sala normale ma piccola. Eppure lì sono stati lavorati i capolavori come il Lago di Cigni e oggi a volte i ballerini del Teatro San Carlo che ci lavorano spesso si lamentano e dicono Ma è però è piccola perché sono abituati alla sala gallizia che è praticamente enorme e io molto spesso ripeto, ragazzi, 30 anni fa ma neanche 20 anni fa, qui c'era un corpo di ballo di 80 elementi che mettevano in scena il Celsior. Pertanto io oggi penso che anche il ballerino ha tutto a disposizione per poi fare una bella carriera. Senta, il Teatro San Carlo sta diventando anche una grande fucina di talenti, lo è sempre stato, però oggi c'è più spazio per i giovani. Personaggi e maestri come lei possono in qualche modo contaminare positivamente le nuove energie della danza? Sì, assolutamente. E in che modo? Se c'è una comunicazione, un dialogo tra vecchie e nuove generazioni, anche lei che sia vecchia generazione, però lei è una figura affermata rispetto naturalmente a dei... E' successo che questi ragazzi io li ho visti crescere, nel senso che 15 anni fa, 16 anni fa, essendo Etual ospite del Teatro San Carlo, molto spesso passavo per le sale e loro erano attaccati alla sbarra, erano proprio dei bambini. Pertanto, tre anni, quasi quattro anni fa che sono diventato direttore, sono diventato una specie, quasi, non mi permetto, ma di padre, fratello, amico. E ha dato dei buoni risultati, perché ad un certo punto loro hanno capito che la danza è un'arte che veramente se dai anima e corpo, sarà il pubblico poi a restituirti tutta quella fatica della sala ballo. E perché credo che l'hanno anche visto in me, nel senso che mi sono sbracciato, ho fatto il direttore, ho fatto il coreografo, ho fatto il metro, ho fatto l'organizzatore, proprio per portare al livello internazionale il Teatro San Carlo. Proprio il mestiere, il mestiere. E loro dovevano soltanto, in effetti, ballare. Ballare e basta. E allora... Diciamo che con lei, insomma, il corpo di ballo del Teatro San Carlo, i terzi corei presenti, ma lei ha dato tantissimo al teatro, ha restituito tantissimo anche all'intera popolazione, all'intera città, con tante opere, tanti balletti inediti, molte volte anche in chiave diversa. Quindi ecco, effettivamente abbattendo la cosiddetta quarta parete, giustamente prima dicevamo della preparazione dei ballerini, la bellezza, no? Quando si è poi al teatro, questa magia che si respira e si vive. Però dobbiamo anche dire, maestro, che non è tutto oro quello che luccica, perché dietro sicuramente c'è tanto lavoro, ma soprattutto c'è anche un po' di crisi qui che viviamo e respiriamo in Italia. Perché è difficile sostenere proprio i corpi di ballo, ma è difficile ottenere dei finanziamenti. Quindi dobbiamo dirlo, a chi dobbiamo rivolgerci? Beh, sicuramente al ministro Franceschini, in primis, perché sicuramente al Teatro San Carlo ci sono ormai delle certezze che proprio ieri abbiamo discusso, ma se ci fosse la possibilità, non dico di arrivare al numerico della scala di Milano, che sono tipo 120 terzi corei, l'opera di Roma sono, credo, 78 e noi siamo 29. Pertanto è un numerico... Dobbiamo implementare... Che andrebbe bene per una compagnia privata, ma un'istituzione come il Teatro San Carlo sono veramente poche, anche perché ti ritrovi con una scuola di ballo di 200 e passa allievi e il futuro per loro poi diventa veramente... Per pochissimi... Credo che il messaggio sia chiaro, sia arrivato. Io però tornerrei, se lei è d'accordo, sull'opera. Come si fa a inscenare un'opera così importante attraverso la danza? Le chiederei proprio tecnicamente... Pari dell'amore? Come si fa a raccontare l'amore? E quindi parlo di Shakespeare praticamente. Sai che cosa è stato? Per noi profani, no? Certo. Parliamo in scena attraverso di lei. Ma io ti spiego nei dettagli. Quando ho pensato a sogno, ho veramente guardato i miei ballerini e io ho Puc Salvatore. E' straordinario, e lui perché riesce a volteggiare in aria? E' proprio lui, è perfetto. Poi ho delle coppie in compagnia, cioè proprio di ragazzi che qualcuno è sposato, proprio coppie. Pertanto il tutto si svolge intorno a queste due coppie che si innamorano. Sì, perché poi Puc è una sorta di cupido, giusto? Esatto, esatto. E altrettanto poi abbiamo Paride, che sarà interpretato da Carlo De Martino. Abbiamo Teseo e Ippolita, che sono Alessandro Stagliano e Anna Chiara Mirante. Ha compiuto il lavoro dell'attore su se stesso, quasi. Ha compiuto il lavoro su se stesso, prima di... Io ho guardato la compagnia e mi sono detto, questo è il balletto perfetto per i ragazzi, perché in primis, essendo napoletani, sono artisti. E a parte la tecnica, riescono a mettere in scena veramente l'anima. L'interpretazione, quanto è importante l'interpretazione, maestro, proprio in un balletto. Possiamo fare oggi un lago di Cigni che è alla pari, certo, non il livello, per carità, io alzo le mani e sono gli altri che devono dirlo, però è stato messo alla pari di compagnia all'estero, che non è facile il livello del Teatro San Carlo, quando l'abbiamo messo in scena a giugno. Oggi, con questo sogno, io personalmente ho puntato più sulle personalità dei ballerini del Teatro San Carlo. E ha funzionato, perché se, insomma, mi fa del piacere, se volete, io vi invito, poi... Io ci sarò maestro. Ok. Poi ne parleremo, ne discuteremo, ok. Intanto, ultimamente, sicuramente anche grazie a lei, la danza in generale, ma nel particolare a Napoli, riesce ad ottenere, sta avendo, un crescendo di consensi. Come spiega, come interpreta, ecco, questa cosa? Perché? Beh, perché io penso... Bravo il direttore, bisogna far conoscere? Allora, in primis io penso che la qualità viene apprezzata. La qualità è qualcosa che... Anche se ci vuole un po' più di tempo, forse. Esatto. Cioè, la qualità è qualcosa che attira il pubblico. E poi, sicuramente, io penso che al pubblico napoletano abbia fatto veramente piacere il mio ritorno dopo New York, Parigi, Vienna, Tokyo, Bordeaux, in tutto il mondo. I riconoscimenti e premi che lei... A 40 anni, invece di rimanere all'estero, che forse, forse sarebbe stato più facile, perché le strade sono più, diciamo, abbandaggiate per il mondo della danza. Io ho preso questo rischio, tra virgolette, però per me è stata soltanto una sfida bella. Una bellissima sfida. Tra l'altro, tantissimi premi lei ha ricevuto, magari poi ne rifarliamo anche la prossima volta. La prossima volta, certo. Maestro, un'ottimissima curiosità, perché noi l'abbiamo vista già svolazzare diverse volte attraverso vari interventi. Ma quante ore al giorno si allena? Per avere quel fisico? La verità, io oggi me l'enno abbastanza poco, perché per stare dietro a tutta l'organizzazione del Teatro San Carlo è molto difficile. Però fino a poco tempo fa, insomma... Continuerò più avanti, perché questo è un momento cruciale. C'è bisogno veramente di lavorare tantissimo per il futuro del ballo. Tanto il corpo... Se ne va tanto, insomma. Il corpo del ballerino ha memoria, Claudio, non ti preoccupare. E poi se vi posso dare una notizia in anteprima, perché vi farà molto piacere, il ballo del Teatro San Carlo sarà protagonista del concerto di Capodanno da Venezia sul Rai 1 il primo gennaio. Complimenti! Fantastico! Grandissima notizia, complimenti a lei. E intanto noi dobbiamo chiuderci il prossimo dal 18 al 23 ottobre al Teatro San Carlo, Lo sogno di una notte di mezza estate per la coreografia di Paul Chalmer. Grazie al direttore del Corpo di Barrio dello Storico di Portenopeo, Giuseppe Figone. Grazie! Grazie! Restate con Mattina 9, pubblicità!